Venti di guerra soffiano dal Medio Oriente verso il Mediterraneo, con l'intensificarsi del conflitto tra Israele e Palestina, che ha raggiunto un nuovo, pericoloso picco. Le incursioni, le azioni e le reazioni hanno spinto in tanti ad abbandonare le proprie residenze per evitare di ritrovarsi in situazioni pericolose. A Napoli, per esempio, diverse persone hanno trovato rifugio sbarcando all'aeroporto di Capodichino nel weekend. L'area è tesa anche fuori dalla sinagoga partenopea, dove la comunità ebraica si riunisce per stringersi in preghiera, nella speranza che questo conflitto, che ormai si protrae da troppi anni, giunga al termine, come sottolineato anche dal vicepresidente della comunità ebraica a Napoli, Sandro Tebin. Quello che si può auspicare è che poi, alla fine di tutto questo, si possa finalmente arrivare a sedersi uno di fronte all'altro delle forze che veramente siano rappresentative anche del popolo palestinese, perché effettivamente Hamas non può essere l'interlocutore, perché è un'associazione terroristica. La notizia dell'esplosione del conflitto ha scosso anche gli ebrei di Napoli. Ecco, qual è stata la reazione del consigliere e assessore alla comunicazione al culto della comunità ebraica a Napoli, Daniele Coppen. Ci sono stati più di 700 morti israeliani, 2500 feriti, di cui 300 gravi che rischiano la vita, e almeno 150 ostaggi. E sono proprio quelle scene degli ostaggi, dei ragazzi, dei bambini, delle donne, che sono stati deportati tra folle festanti a Gaza, che sono forse la cosa più inquietante, la cosa che fa forse più male delle notizie delle vittime, perché è qualcosa che colpisce profondamente la sensibilità di ognuno di noi, ebreo o non ebreo.